Per l'udienza preliminare Biancona ha ammesso la trascrizione di tutte le intercettazioni relative al processo Oro Nero. Si tratta del caso delle sospette esalazioni tra il 2018 e il 2022 alla raffineria di Falconara. Si va a processo da febbraio con l'accusa tra l'altro di disastro ambientale, ha giudito 18 persone fisiche e la società Api che ha sempre rivendicato la correttezza del proprio operato. Non sono state ammesse le intercettazioni relative all'uso di ufficio reato che nel frattempo è stato.